Musica Buonasera e bentornati a T-Sport, l'appuntamento con l'informazione sportiva della provincia di Firenze e della regione Toscana. Oggi non possiamo che aprire dalla Fiorentina, reduce dalla sconfitta nella gara di andata di semifinale di Coppa Italia a Udine, una sconfitta che brucia e soprattutto una sconfitta che costringerà i ragazzi di Montella a una vittoria al ritorno. Decisivi per i bianconeri friulani i gol di Natale Muriel, a niente valso il gol di Juan Manuel Vargas che aveva riportato la gara sull'1-1 e quindi sull'equilibrio. Adesso però c'è da dare subito un'altra notizia, una notizia che in realtà era stata già annunciata e che rende un po' meno amaro questo post partita e soprattutto che dà una speranza per il futuro alla Fiorentina. Infatti oggi ha ripreso a allenarsi con il gruppo Viola Mario Gomez e infatti dovremmo vedere proprio le immagini che oggi Viola Channel ha fornito del primo allenamento in gruppo dopo l'infortunio di Mario Gomez. Vediamo proprio Montella che consegna la casacchina a Mario Gomez, Mario Gomez che presentandosi all'allenamento ha praticamente detto a Montella Ciao sono Mario e di ruolo faccio l'attaccante scherzando un po' e rompendo l'atmosfera grigia ovviamente dovuta alla sconfitta di ieri sera. Queste le immagini di Mario Gomez, Mario Gomez accolto dai compagni, Mario Gomez che poi finge anche una sorta di dolore quando il compagno gli sale in collo e quindi finge appunto di avere una ricaduta, forse anche qui per scherzare, vederli stemperare dei toni che dopo la sconfitta di ieri certo non possono essere rosei. Adesso andiamo proprio a sentire le voci dei protagonisti dopo la partita di ieri sera, infatti ecco le conferenze stampa di Vincenzo Montella e di Manuel Pasquale. La sua fiducia di approdare in finale è un po' diminuita dopo stasera e se vuole chiamare... No, no perché anche con un 1-1 sarebbe stata la stessa cosa, nel senso che sarebbe stata la stessa, il mio umore sarebbe un umore, la mia fiducia sarebbe stata la stessa, quindi tutto aperto, anche bisogna essere una squadra pericolosissima anche fuori casa, perché gioco più o meno nello stesso modo in casa e fuori casa, quindi ti può far male come è successo oggi con le ripartenze veloci perché hanno giocatori veloci e di qualità. Non è un momento particolarmente felice, a parte Cagliari non credo le altre due partite, gli avversari abbiano giocato meglio di noi, con un po' di fortuna, un po' di capacità in più avremmo potuto vincerle entrambe, così non è stato, non che l'Udinese abbia rubato qualcosa stasera, vai calci questo, però è un momento, noi faremo di tutto per farla diventare indolore questa sconfitta. Senti, ti volevo chiedere della prestazione di Matri, che mi sembra che abbia dato veramente tutto, cioè ha dettato il passaggio, è andato a prendere il pallone da ogni parte. Ha fatto una partita di temperamento, di giocatore che sa giocare con la squadra, capisce quando la squadra ha bisogno di lui, insomma ha fatto una partita grande da centravanti vero, con lettura delle situazioni. Abbiamo preso gol sia il primo che il secondo, si fa per dire il nostro momento migliore, sembrava che da un momento all'altro potesse arrivare il nostro gol e invece abbiamo subito. Peccato perché comunque abbiamo concesso veramente poco, che poi secondo tempo l'Udinese non ha praticamente quasi mai passato a metà campo, eravamo riusciti ad arginar bene i loro contropiedi, però è un risultato che posso ribaltare, c'è la voglia e la volontà di andare prima di tutto in finale di Coppa Italia, anche per aver già un posto scuro in Europa League. Sì, diciamo che le condizioni non erano, si fa per dire, ottimali per la nostra maniera di giocare, però il campo non era neanche in pessissime condizioni. Ci dispiace perché comunque non ci siamo nemmeno accontentati l'1-1, come magari potevano fare molte altre squadre. Ti ho detto prima, eravamo convinti di poter fare il secondo gol e invece l'abbiamo subito. Sì, eravamo un po' aperti e abbiamo preso il primo gol. Quella è stata la classica azione dell'Udinese, non si è riusciti a accorciare bene al limite dell'aria su una respinta e quindi ci hanno messo in difficoltà, poi alla fine si è riusciti comunque ad arginarli molto bene. E per commentare questo day after della Coppa Italia abbiamo in collegamento con noi Luca Calamai della Gazzetta dello Sport. Bentornato a T-Sport, Luca. Ciao, ciao, buonasera a tutti. Allora, in apertura di T-Sport abbiamo detto una sconfitta che fa male, ovviamente. Abbiamo anche sentito le parole di Montella che dice che in pratica non è tanto più complicata di un risultato di 1-1 all'andata, questa sconfitta di 2-1, però allo stesso tempo un po' di amarezza lo dobbiamo dire c'è, c'è perché ci si aspettava un risultato diverso, Luca. No, anche perché comunque questo è un risultato che viene dopo due risultati negativi in campionato, viene dopo una situazione che aveva visto la Fiorentina riequilibrare il pareggio, conquistare il pareggio a Udine 1-1 e quello sarebbe stato il risultato ottimale, viene perché ha la sensazione che questa squadra abbia dei momenti di vuoto, che paga a caro prezzo e vuoi perché comunque questo regala un vantaggio all'Udinese, un vantaggio importante perché l'Udinese che ha nel contropiede la sua arma migliore, almeno in partenza a Firenze, potrà permetterti di aspettare la squadra di Montella. Quindi sommando tutti questi motivi non può essere un risultato positivo, detto tutto questo se ci limitiamo all'aspetto della qualificazione direi che una sconfitta per 2-1 non è un risultato ottimale ma sicuramente uno dei migliori risultati, in trasferta perché comunque ha segnato un gol, nella gara di ritorni basterebbe l'1-0 per passare. Esatto, l'1-0 che basterebbe per passare, il gol del pareggio ce l'ha dato Vargas, è un gol veramente da Cineteca che in parte magari ha nascosto alcune difficoltà della Fiorentina, anche se dobbiamo dirlo l'Udinese non ha fatto una partita di attacco tutto sommato. Ti chiedo però come hai visto il difensore di Akite che era al debutto con la maglia della Fiorentina in questa partita contro un osso duro come Di Natale là davanti. Allora, calcolando che era al debutto e quindi che abbia anche poco feeling in questo momento il resto della squadra è uno dei pochi che ho valutato in maniera sufficiente. Già se vai dall'altra parte del campo, per esempio Pasquale mi è piaciuto molto meno. Quindi si può lavorare, mi sembra un acquisto che può dare valore alla squadra, certo anche lui deve crescere, questo lo sa benissimo, però i problemi della Fiorentina non sono lì, il problema della Fiorentina è il rivisto in mezzo al campo dove a parte Borca Valero che si è sacrificato in un lavoro massacrante. Il suo giocatore ha una capacità di corsa incredibile tra l'altro. Gli altri sono stati tutti di basso profilo e soprattutto ho avuto l'ulteriore conferma che la Fiorentina sia poco protetta in mezzo al campo. L'anno scorso riusciva a garantire filtro con un possesso di palla di grandissima qualità. Quest'anno sarà perché il Pizzarro non è il Pizzarro vero, sarà perché Aquilani per esempio non c'era, sarà perché, ma certo è che la Fiorentina lì nel mezzo dà un senso di essere un po' in grande difficoltà. Fateci caso, viene sempre più attaccata centralmente, questo lo trovo anche comprensibile. Ovviamente se te devi attaccare la Fiorentina oggi, lì c'è un buco spesso dove puoi affondare. Luca, a rendere un po' meno amaro questo post partita, sicuramente ci ha pensato Mario Gomez che oggi è tornato in campo. Lo abbiamo atteso, se ne è parlato in tutte le salse, finalmente l'abbiamo visto in campo e questo è sicuramente un segnale positivo. No, un segnale necessario oltre che positivo, perché la Fiorentina ora al momento ha bisogno dei suoi grandi giocatori e se le proteste di Rossi sono riuscite a tenere un po', a non far pensare troppo alla gente a Mario Gomez, ricordiamoci che Mario Gomez è stato il grande investimento dell'estate, è il giocatore sul quale la Fiorentina ha investito per alzare l'asticella delle proprie ambizioni. Quindi, ora intanto tornate al gruppo e questa è già una buona notizia. credo che presto lo vedremo in panchina, magari io mi auguro già, perché no, nella partita contro l'Atalanta, non perché debba giocare naturalmente, perché non è assolutamente in condizioni, ma perché anche riassaporare l'urlo dei tifosi, riassaporare tutto quello che lui aveva toccato, ripartire da quei 30.000 che in estate erano solo per lui, stavolta saranno per tutta la squadra, può anche dare al giocatore il senso di quanto lui ora sia atteso e di quanta pazienza anche i tifosi hanno avuto. Quindi credo che sia importante. Perfetto Luca, allora attenderemo ovviamente il ritorno di Mario Gomez sia tra i convocati sia in campo. Nel frattempo l'appuntamento è ovviamente a Viola Express per parlare di Fiorentina, Viola Express che andrà in onda ovviamente martedì prossimo. Grazie mille a Luca Calamai per il suo intervento. Passiamo adesso al basket perché c'è senza dubbio da parlare dell'Enegan Firenze, una squadra in grande difficoltà, una squadra reduce da una brutta sconfitta contro Recanati, domenica sul parquet di casa del Mandela Forum, ma c'è subito la possibilità di rifarsi. Perché? Perché arriva il ventesimo turno della DNA Silver, un turno infrasettimanale, allora domani appunto Firenze se la vedrà con Luca in un derby toscano che deve far girare la stagione degli uomini di Coach Attilio Caia. Risorgere per non cadere, vincere per non perdere quel treno chiamato Salvezza, un treno per cui ad inizio anno nessuno avrebbe pensato di dover prenotare il biglietto. Domani torna in campo la DNA Silver per il ventesimo turno di campionato, turno infrasettimanale che metterà di fronte Firenze e Luca in un derby toscano che Firenze, reduce dalla brutta sconfitta nel weekend patita contro Recanati, deve assolutamente vincere. Attualmente l'Enegan, 12 punti in classifica, è infatti al penultimo posto e quindi in piena zona retrocessione. Ma una vittoria potrebbe restituire fiducia e permettere quantomeno di rimanere agganciati alla terz'ultima in campionato Viola-Reggio Calabria, distante solo due punti, e di rimanere a contatto con Torrevento e Recanati, che invece sono a quattro lunghezze di distanza. Coach Caia sta inserendo sempre più nei meccanismi della squadra il croato Damir Rancic. La guardia, con un trascorso in Eurolega, ha dichiarato di amare Firenze, ma se i suoi primi passi in città sono stati ottimi, non ultima la dichiarazione di stima nei confronti di Battistuta, ancora i suoi passi sul parquet sono incerti. Damir ha il talento per far cambiare faccia in attacco a Firenze e lo si è visto nel quarto quarto contro Recanati, ma un ritardo di preparazione fisica e un'ovvia fase di ambientamento stanno rallentando il croato, chiamato a sostituire Brandon Wood nel reparto guardie. Il minutaggio di Rancic comunque continua a salire, siamo passati dai 16 minuti dell'esordio ai 25 contro Recanati e proprio lui dovrebbe essere l'uomo che guiderà Firenze contro Lucca. Della sua mano sicuramente ci sarà bisogno nei finali delle partite, Firenze è uscita infatti sconfitta negli ultimi quattro incontri e lo ha fatto sempre in finali tirati, che l'hanno vista sconfitta con uno scarto mai superiore ai sei punti. Lucca dal canto suo ha sicuramente voglia di fare terra di conquista del Mandela Forum, vendicare la sconfitta dell'andata e continuare il suo campionato di vertice, trovandosi quinta con soli sei punti di distanza dalla capolista Grigento. All'andata sulla panchina di Firenze sedeva ancora Coach Giordani, che vincendo 88-84 al Pala Tagliate, prolungò di una giornata la sua permanenza sulla panchina dell'Africo. Nonostante il cambio di panchina, il precedente aiuta Firenze a sperare di non essere in ritardo. Il treno, in partenza dalla zona di campo di Marte, non sarà l'ultimo per raggiungere la salvezza, ma portare la striscia di sconfitte consecutive a quota 5 complicerebbe non poco il viaggio dell'Enegan. Il viaggio dell'Enegan che riparte anche dalle parole di Coach Attilio Caia, che ha detto subito in campo per il riscatto e ha chiesto a tutti i giocatori di non guardare al passato, ma con fiducia alla prossima partita. Fiducia che però manca un po' perché non sappiamo se Kyle Swanson sarà in campo. L'americana infatti ha dei problemi fisici alla schiena e è ancora in dubbio per la partita di domani. Bene, con questo è davvero tutto per quanto riguarda lo sport, il basket, il calcio e tutto quello che c'è da sapere sulla provincia di Firenze e la regione toscana per quanto riguarda lo sport. Dunque l'appuntamento con T-Sport torna domani come sempre. Arrivederci!